Ciao ragazzi, io sono Antonio e oggi faremo un gran bell'unboxing di pacchi che mi sono arrivati dagli uffici stampa nel mese di novembre, ma anche dei miei acquisti del Black Friday. Ho davvero tante cose da farvi vedere in super anteprima, cose che poi approfondiremo meglio nei video potteriani del martedì. Intanto, prima di cominciare, vi ricordo che per acquistare magliette super nerd come quella che indosso, avete a disposizione il codice sconto 7POTTER che è valido per sempre e vi darà il 15% di sconto su tutto il catalogo di Pampling. Ma detto questo ragazzi direi subito di cominciare col primo pacchetto che in realtà ho già aperto. A me non piace portare pacchi già aperti sul canale, però in questo caso dovevo aprirlo per forza perché adesso vi farò vedere. Questo qui mi arriva, mi è stato inviato dalla gentilissima Lorenza Di Sepio. Molti di voi la conosceranno, è molto molto famosa soprattutto sui social, lei ha centinaia di migliaia di follower e ragazzi i suoi personaggi ultra famosi sono Simple e Madama. Chi di noi non ha mai visto una striscia su Instagram o su Facebook. Lorenza nasce sui social, poi si sposta anche sul cartaceo con Magic Press e adesso arriva il suo primo fumetto autopubblicato. E non è solamente suo perché la sceneggiatura è anche di Marco. Ecco qui vi mostro la copertina, la sceneggiatura di Marco Barretta e Lorenza Di Sepio. Il volume si intitola Simple e Madama Procrastination. È stato presentato a Lucca, è stato un successone sold out prima della fine della fiera e sono felicissimo che Lorenza me ne abbia inviato una copia. Lorenza è sempre tanto tanto gentile con me, io sono un suo super fan, l'ho conosciuta circa tre anni fa ad Etna Comics e da quel momento ho letto tutto quello che lei ha pubblicato durante gli anni. Sono contento che si sia avventurata in questa nuova avventura di autopubblicazione e ragazzi il volume, l'albo è davvero di alta qualità. Mi piace tantissimo il tipo di carta utilizzato per la copertina, mi piace un sacco la costa e poi ragazzi anche all'interno è davvero stampato benissimo. I colori sono davvero brillanti e mi piace davvero un sacco. E poi mi ha anche fatto un piccolo sketch, ne ho scritto grazie Antonio, a presto. Io non vedo l'ora che arrivi giugno, così potrò finalmente rivedere sia lei e spero anche Marco a Etna Comics. Ragazzi, detto questo naturalmente in infobox troverete tutti i link sia per acquistare questo albo che per seguire sia Lorenza che Marco che è un bravissimo fotografo. Lo trovate anche su Instagram, naturalmente tutto sotto in infobox. Ma di cosa parla Procrastination? Ragazzi, parla praticamente della mia vita e della vita di molti di voi probabilmente, perché chi di noi non è un grandissimo procrastinatore. Io tendo sempre a rinviare le cose a domani, a dopo, tra un'ora e poi finisco per accumulare montagne di cose da fare tutte in una volta. Ebbene, Simple e Madama sono campioni di procrastinazione e il fumetto comincia proprio così, con Simple e Madama che procrastinano i loro doveri di casa. Bene, ma questa procrastinazione li porterà ad avere dei superpoteri. Dei superpoteri molto particolari. Troveremo la superforza da una parte e anche la superfortuna dall'altra. Ma non solo questo, perché anche altri personaggi come Amanda e Frianderico, che ragazzi mi fa sempre morire da ridere, Frianderico è l'amico frienzonato di Amanda, ma anche di Simple e Madama, che, poveretto, mi fa sempre tanta tenerezza. Ebbene ragazzi, se conoscete Simple e Madama, potrete capire da soli che combineranno una montagna di guai grazie a questi superpoteri. Io l'ho trovato davvero molto molto bello e anche abbastanza lungo il fumetto è di circa 90 pagine e scorre che è una bellezza. Strappa più di un sorriso, a me mi ha fatto davvero tanto tanto ridere, mi ha fatto passare un'oretta in spensieratezza e ve lo straconsiglio. Ringrazio ancora Marco e Lorenza per avermi inviato una copia e ragazzi acquistatelo perché davvero vale la pena sostenere questo progetto che ha ancora tantissimo da dare. Ma adesso continuiamo con i nostri unboxing e ragazzi passiamo alle uscite home video del mese di novembre che sono davvero tantissime e per la prima volta mi arriva un pacco anche dall'ufficio stampa di Fox. Sono contentissimo per questa cosa, per questa nuova collaborazione e vediamo cosa mi hanno mandato. C'è un sacco di bella roba dentro questa busta e la prima è la versione 4K Ultra HD di Braveheart Cuore Impavido di Mel Gibson. Ragazzi io ho visto tanti anni fa questo film e adesso non vedo l'ora di godermelo nel mio televisore 4K perché ragazzi deve essere davvero tantissima roba, neri super profondi e ragazzi High Dynamic Range è davvero tutta un'altra storia. E poi naturalmente oltre al film che ricordiamo ha vinto 5 premi Oscar all'interno della confezione troviamo anche i contenuti speciali che sono tanti come ad esempio il commento audio di Mel Gibson, il mondo di William Wallace, campo di battaglia della rivoluzione scozzese, in viaggio con lo sceneggiatore e poi molti altri contenuti. Io non vedo l'ora assolutamente di riguardarlo, queste sere natalizie ragazzi saranno tutte dedicate al long video, ne sono già sicuro. Ma non mi hanno inviato solo questo perché mi è arrivato anche questo Blu-ray di The Darkest Minds. Ragazzi questo qui è un film che volevo assolutamente vedere, non ho avuto modo di andare al cinema, come sapete col mio lavoro riesco davvero poco ad andare al cinema e per fortuna poi a breve distanza arrivano le uscite con video e in questo caso si tratta di un film dai produttori di Stranger Things e di Arrival. Ragazzi, sembra molto molto interessante la trama, a me piace tantissimo Stranger Things e in questo caso troviamo dei ragazzi, degli adolescenti che sviluppano dei poteri, delle abilità speciali e che per questo sono costretti inizialmente a nascondersi perché il governo li ritiene pericolosi e poi questi ragazzi si uniranno per resistere e per affermarsi. Questo credo sia il primo capitolo di una saga, credo di aver capito così e quindi sono davvero super curioso. Fatemi sapere voi nei commenti se l'avete già visto o se dovete anche voi ancora recuperarlo perché mi sembra davvero una bella idea e poi questi film con i superpoteri sono sempre tanto belli. E ragazzi, di tutti questi film naturalmente troverete i link in info box ma non è finita qui perché Fox mi ha inviato anche il cofanetto di Maze Runner dei tre film di Maze Runner. Io ho visto i primi due, mi mancava il terzo quindi questo qui, la rivelazione, lo andrò a recuperare quanto prima perché per un motivo o per un altro non ero riuscito a finire la saga. Bene ragazzi, per chi non conoscesse Maze Runner si tratta di dei ragazzi che si disvegliano all'interno di un labirinto che cambia continuamente forma ricorda un po' quello della prova del torneo tre maghi di Harry Potter però questo forse è un pochino peggio. E questi ragazzi non ricordano neanche la loro vita passata si svegliano in mezzo a questo labirinto e dovranno trovare il modo di uscirne. A me è piaciuta molto l'idea, sono belli anche i libri che vi consiglio assolutamente di leggere. Bene, adesso continuiamo ancora con il nostro unboxing e passiamo alle uscite con video invece di Universal Picture Home Entertainment e credo anche di Dreamworks. Vediamo cosa c'è all'interno di questo bel bustone e adesso lo andiamo a commentare. Uh, ok, tanta bella roba questo mese anche da Universal io comincerei con Skyscraper. Ragazzi, abbiamo The Rock in copertina quindi dobbiamo già aspettarci una mega catastrofe. Io questo film l'ho visto a cinema e mi è piaciuto tantissimo. Io sono un super fan dei Disaster Movie, ormai lo sapete. Io ve lo ripeto ogni volta che mi arriva praticamente un Blu-ray un'uscita con The Rock e The Rock in tutti i film fa sempre più o meno lo stesso personaggio ma che spacca. A me piace tantissimo, mi piace un sacco il suo personaggio forzuto divertente, ironico e che poi ragazzi fa cose allucinanti come sappiamo si lancia da qualsiasi cosa senza mai farsi del male. e in questo film è anche senza una gamba ma questo sicuramente non lo fermerà per nessun motivo. Ragazzi, io ve lo straconsiglio e poi c'è anche un concorso allegato a quest'uscita home video Ready for Action Vinci fantastici premi high tech si può vincere una e-bike, un hoverboard e dei droni all'interno troviamo la cartolina per partecipare quindi chissà, magari vinco anche un hoverboard così finalmente faccio un video dove cado e mi spacco la faccia. Detto questo, ragazzi, mi hanno inviato anche Mamma Mia Ci Risiamo mi avevano già mandato la versione 4K di Mamma Mia un musical che avevo visto molto volentieri e che non ho visto a New York ma sono passato davanti al teatro che lo fa da tantissimi anni che lo mette in scena ormai da decenni è stato molto bello passare lì davanti fare una foto, però non sono entrato. Però, ragazzi, il film mi era davvero piaciuto e questo qui non l'ho visto ma voglio assolutamente recuperarlo è una sorta di seguito ma anche prequel perché troviamo la nostra protagonista Meryl Streep che ci farà rivivere dei suoi ricordi che verranno messi in parallelo con quelli della figlia che si troverà più o meno in una situazione simile alla sua quindi anche in questo qui non vedo l'ora di vederlo ed è inclusa anche la versione karaoke del film per divertirsi con gli amici e farsi davvero quattro risate poi mi hanno inviato sempre da Universal la nuova edizione Blu-ray del Grinch il Grinch, quello storico, il primo quello interpretato da Jim Carrey che fino a fatto Jim Carrey tra l'altro fatemelo sapere nei commenti ragazzi, questo è uno dei classici di Natale troviamo anche Funko Pop troviamo ormai tutto in questo periodo del Grinch e soprattutto appena è arrivato nelle sale il nuovo film del Grinch in computer grafica quello lì voglio assolutamente andarlo a vedere se non sbaglio per i primi che prenotavano i biglietti c'erano anche il regalo delle decorazioni natalizie a tema Grinch quindi ragazzi andate e fatemi sapere io spero di riuscire ad andare al cinema almeno un paio di volte per Natale perché col lavoro è sempre tanto difficile ma bisogna andare al cinema pensavate fosse finita qui ma invece c'è ancora un'uscita in questo caso si tratta di Dreamworks mi hanno inviato il cofanetto DVD della trilogia di Madagascar ragazzi, quanti anni sono passati dal primo Madagascar è uscito nel 2005 ragazzi, io ho un ricordo nitidissimo di me che vado al cinema a vedere il primo film di Madagascar mi era piaciuto un sacco tantissimo mi era piaciuta la canzone del Re Julian che era diventato un tormentone anche nelle radio e poi sono arrivati anche il secondo e il terzo capitolo ragazzi, 2005 vuol dire che sono passati quasi 14 anni sono vecchissimo e quindi grazie mille a Dreamworks e l'Universal Picture Home Entertainment perché mi ricordate che sono vecchio detto questo, ragazzi, ultimo pacchetto per quanto riguarda le uscite di un video questa volta mi arriva da Warner Bros Warner Bros che invece mi ha inviato vediamo cosa è sempre un vero peccato strappare queste buste io le conserverei tutte mi hanno inviato l'uscita 4K di Ocean's 8 io anche questo l'ho già visto al cinema e devo dire che mi è piaciuto sono super fan della saga originale di Ocean's Eleven con Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon e tutti gli altri però devo dire che hanno fatto un gran bel lavoro anche con Ocean's 8 mi è piaciuto molto il cast molto brava e Netway mi è piaciuta tantissimo Sandra Bullock che interpreta la sorella di Ocean's ragazzi, è davvero un gran bel film mi è piaciuto tutto mi è piaciuto anche dove è stato ambientato al Metropolitan di New York un museo bellissimo che ho avuto la fortuna di visitare è stato molto bello il plot twist alla fine del film non vi faccio spoiler per chi non l'avesse visto però davvero molto molto bello ricordiamo che nel cast c'è anche Helena Bonancarter ragazzi, la nostra bellatrix di Harry Potter ma troviamo anche Sarah Poulson che abbiamo conosciuto in America Horror Story troviamo anche Rihanna ragazzi, davvero un cast eccezionale un film gradevolissimo mi è piaciuto un sacco ti fa passare tranquillamente due orette e strappa anche più di una risata e poi a me questi film dove ci sono delle rapine in atto mi piacciono sempre tantissimo infatti sono anche super fan della casa di carta bene, ecco qui tutte le uscite home video di novembre ma adesso passiamo al mio Black Friday e ai miei acquisti potteriani cominciamo da questo pacchetto qui che in realtà ho già aperto su Instagram quindi sincerissimo e ragazzi vi consiglio di seguirmi anche lì Antonio Seria, mi raccomando e all'interno c'è un oggetto che vi ho mostrato in anteprima perché ci tenevo a mostrarlo proprio il giorno dell'uscita di Animali Fantastici i Crimini di Grindelwald si tratta di una spilletta io adesso vi lascerò naturalmente il link in infobox una spilletta in edizione limitata che è stata messa in commercio da Lumos Lumos è l'associazione di J.K. Rowling che aiuta i bambini bisognosi i bambini che si trovano in orfanotrofi che sono stati separati dalle famiglie e che aiuta appunto queste famiglie e questi bambini a ricongiungersi è un prezzo davvero basso quello richiesto per questa spilla credo sulle 6-7 sterline adesso non ricordo e le spedizioni sono altrettanto basse diciamo che con circa 12 euro dovreste riuscire a portarvela a casa è davvero molto molto carina si tratta della bacchetta di Newt che è incastonata in questo anello con un occami a me piace tantissimo la spilla e poi piace soprattutto il fatto che questi soldi vadano in beneficenza quindi vi consiglio tantissimo di acquistare questa spilla in edizione limitata naturalmente sotto come vi dicevo trovate il link per acquistarla poi durante il Black Friday ho approfittato di una promozione riguardante i libri spendendo 20 euro si riceve indietro un buono di circa 7 euro se non sbaglio e in questo caso ho acquistato tra le altre cose non solo cose per me anche cose che non ci sono qui su questo unboxing ho acquistato un volume molto molto particolare di Harry Potter che non avevo mai preso ma che era nella mia lista dei desideri già da qualche mese e si tratta di questo libro qui ragazzi è un libro minuscolo è il libro delle arti grafiche di Mina Lima Mina Lima è il duo che si occupa delle grafiche di tutti i film di Harry Potter si è occupato di tutte le grafiche e anche di quelli di Animali Fantastici questo è un mini libro di 300 pagine in copertina rigida rilegato davvero di ottima fattura già tenerlo in mano è davvero tanta tanta roba ed è strapieno all'interno di tutti gli oggetti grafici biglietti poster pagine di giornale documenti qualsiasi cosa abbia fatto parte del mondo di Harry Potter rincarti dei dolci davvero di tutto e di più sono curiosissimo di sfogliarlo di guardarlo assieme a voi ma non lo facciamo adesso al momento è solamente un piccolo diciamo spoiler per quello che verrà ragazzi tanta roba io comunque già vi lascio il link in infobox ma non è l'unica cosa potteriana che ho acquistato durante la settimana del Black Friday perché ho preso anche un oggetto Noble Collection un oggetto Noble Collection che si trova qui dentro e che adesso andiamo un attimo a sbricciare ma anche questo ve lo mostrerò nel dettaglio più avanti sicuramente si sentirà un casino dal microfono con tutte queste buste che scriccolano scusatemi bene ecco qui la nostra confezione solita di Noble Collection super compatta io direi di andare a tagliare almeno lo scotch di dare una piccola sbricciata ma ragazzi non ve lo farò vedere adesso per intero ecco qui la solita confezione di polistirolo e adesso vediamo se riesco a tirarlo fuori ok più complicato del solito ecco qui ecco qui posiamo il nostro bisturi e ragazzi ecco che abbiamo la nostra teca e poi qui in alto avvolto in questo coso di gomma piuma coso è un termine tecnico questa è una cosa che dovete ben sapere e ragazzi qui dentro c'è il nostro medaglione di serpeverde ma non ve lo mostro adesso e per finire ragazzi vi voglio mostrare una cosa che ho già mostrato anche in questo caso in anteprima su instagram ed è una cosa che mi ha inviato panini comics in super anteprima quando me l'hanno inviata che adesso però è ufficialmente arrivata in vendita e ragazzi si tratta del quarto volume di schermi incantati schermi incantati i crimini di Grindelwald anche in questo caso strapieno di allegati e di cose super interessanti e ragazzi anche in questo caso dovrò essere super cattivo perché non vi faccio vedere cosa c'è all'interno ma anche di questo arriverà un video dedicato secondo me è meglio fare dei video singoli per ogni prodotto che mostrarvi tutto adesso visto che siamo già qui da quanto da un quarto d'ora venti minuti non ne ho idea quindi ragazzi direi che per il momento può bastare questa piccola anticipazione in ogni caso tanta roba l'ho già sfogliato una figata molto molto bello lo trovo molto più interessante degli ultimi due volumi di schermi incantati che sono usciti di recente quelli erano carini ma questo davvero ha una marcia in più e con questo ragazzi direi che è davvero tutto vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine qualora vi fosse piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un commento mi piace fatemi sapere cosa ne pensate di tutte queste cose che mi sono arrivate che ho unboxato qui assieme a voi e ragazzi mi raccomando importantissimo seguitemi anche su Instagram ebbene detto questo io do un bel taglio alle ciance e noi ci rivediamo prestissimo con tante altre novità ciao 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 ciao